La due giorni del viceministro Rixi nelle Marche, si parla di futuri interventi strutturali su A14 e Ferrovia, l'arretramento non è più una parolaccia. Tragedia di Rigopiano, nessun vero responsabile per le 29 vittime, tra le quali 6 marchigiani. 25 soluzioni a Pescara al processo di primo grado. Una splendida collaborazione ha consentito di prendere subito il presunto omicida del giovane pesarese. Tempi rapidi per l'estradizione. Tra poco al Palace di Pesaro prende il via l'attesissimo tour mondiale dei Maneskin, città in fermento. C'è chi ha dormito lì dall'altro giorno. Una settimana di lavoro di quattro giorni, dopo il positivo esperimento in Inghilterra, ora sono molti a crederci. I pareri della gente. Un cordiale saluto dalla redazione di All News. Avete sentito i titoli, sono tanti gli argomenti di cui ci occuperemo, ma vado subito a presentarvi l'ospite. Con me in studio stasera c'è Sandro Tiberi, Mastro Cartaglio di Fabriano. Buonasera, sono onorato di essere qui e vi ringrazio di questa opportunità. Ci ritroveremo più avanti perché tutta la nostra prima parte è occupata dalla cronaca delle ultime ore. Viabilità e ferrovia delle Marche possono essere ripensati in toto. Non è più un tabù pensare ad un arretramento. Iniziato oggi da Ascoli, il tour di due giorni nella nostra regione del Vice Ministro alle Infrastrutture, Edoardo Rixi. Sentiamo Mario Larocca. Questa mattina presso la serie di Ascoli Piceno di Confindustria, il Vice Ministro alle Infrastrutture e Trasporti, Edoardo Rixi, ha incontrato i rappresentanti degli industriali e delle istituzioni della provincia picena. Diverse le problematiche che sono immerse nel corso dell'incontro, autostrada 14, salaria per il collegamento con Roma e linea ferroviaria ancora lontana parente dell'alta velocità. Queste le principali richieste e soprattutto le preoccupazioni legate ad un territorio sempre più difficile da raggiungere. E guardi, è un tema grandissimo. D'altra parte, quando si cantierizza a traffico aperto, il rischio sia per gli utenti sia per chi lavora all'interno del cantiere è un rischio particolarmente elevato. E questo è uno dei temi che a noi preoccupa moltissimo perché purtroppo in alcune aree, tra cui le marche, non ci sono alternative rispetto alla sede autostradale. E quindi ipotizzare di chiudere l'autostrada per fare i lavori diventa sostanzialmente impraticabile. Quindi bisogna cercare di... Ovviamente noi cercheremo anche di rivedere alcune regole sulle cantierizzazioni. Però se da una parte ridurre il numero di cantieri migliora la situazione del traffico, è anche vero che dilata i lavori in un tempo talmente lungo che il rischio è che non vedremo mai la fine di quei lavori perché quando si finisce di mettere a posto l'ultimo pezzo il primo torno in manutenzione. Quindi abbiamo da confrontarci e capire anche rispetto alla situazione autostradale nelle marche come riuscire, come posso dire, alleggerire dalla rete autostradale il traffico. Questo lo si fa solo creando alternative agli utenti. Soddisfazione per il presidente di Confindustria che propone l'idea di una bretella per la 14 nel tratto a due corsie ed appoggia l'ipotesi di uno spostamento della linea ferroviaria all'interno del territorio marchigiano lasciando più libera la costa adriatica. Ipotesi che però non trova tutti d'accordo. Noi riteniamo, abbiamo avuto l'esperienza di questi cinque anni con le gallerie manutentate è stato un incubo, un inferno. Pensare a una terza corsia in sito immaginiamo comporti dei disagi per più di cinque anni considerevoli. Quindi rischiamo, come dice anche il Vice Ministro, nel frattempo di... ha parlato addirittura del rischio di localizzazione di alcune attività produttive. Non parliamo poi del turismo. Quindi, a nostro giudizio, un arretramento consentirebbe di non avere disagi e allo stesso tempo, una volta finita, l'attuale autostrada diventerebbe una bretella ex urbana che decongestionerebbe tutta la costa. Meno di tre ore per la prima sentenza sulla strage dell'hotel di Rigopiano. Ed è una sentenza che ha provocato reazioni durissime. Su 30 imputati, 25 assoluzioni e condanni minori. In sostanza, per la sentenza di primo grado, fu una tragica fatalità. Urla, pianti, caos in aula dopo la sentenza emessa nel tardo pomeriggio a Pescara sulla tragedia di Rigopiano. A sei anni dalla morte di 29 persone, tra le quali sei marchigiani, in pratica non ci sono colpevoli, se non per responsabilità marginali. Assolti 25 dei 30 imputati al processo di primo grado. Per il gruppo di Pescara, solo 5 i colpevoli e per motivi marginali. La sentenza più dura per due funzionari della provincia, tre anni e quattro mesi, e due anni e otto mesi, al sindaco di Farindola. Il gestore dell'albergo su cui gravava l'accusa, la responsabilità cioè di non averlo chiuso per tempo, condannato a sei mesi, quindi con la condizionale. Nelle udienze precedenti, l'accusa, rappresentata dal procuratore capo Giuseppe Bellelli e dai PM Andrea Papalia e Anna Benigni, aveva invece chiesto 26 condanne, 25 persone e una società, per un totale complessivo di 151 anni e mezzo di reclusioni e quattro assoluzioni. Assolto l'ex prefetto Francesco Provolo, per il quale l'accusa aveva chiesto invece 12 anni. Profonda amarezza per i congiunti di Marco Vagnarelli, Paola Tomassini, Emanuele Bonifazi, Marco Tanda, Domenico Di Michelangelo, Marina Serraiocco, le vittime marchigiane che ancora non hanno avuto giustizia e i parenti hanno subito dichiarato che una tragedia di questo tipo non può essere archiviata come fatalità. E adesso gli aggiornamenti sull'omicidio Panzieri. Un grande lavoro di squadra ha permesso la cattura in tempi brevi del presunto omicida, come sottolinea il questore Raffaele Clemente. Movente ancora sconosciuto, rapidi i tempi per l'estradizione. Ci dice tutto Lino Balestra. Potrebbero bastare 10 giorni, 15 forse, per veder varcare la soglia della procura di Pesaro a Michael Alessandrini, il sospettato dell'omicidio di Pierpaolo Panzieri. Ad aspettarlo il sostituto procuratore Silvia Cecchi, che gli contesterà l'accusa di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e dalla crudeltà. I tempi brevi per il suo rientro in Italia si devono allo strumento utilizzato, il MAE, il mandato d'arresto europeo, emesso nel pomeriggio di ieri dal GIP di Pesaro su richiesta della procura. Uno strumento più snello che costituisce sostanzialmente una sorta di estradizione semplificata e depoliticizzata, affidata alle autorità giudiziarie degli stati membri dell'Unione Europea e fondata sul principio della fiducia reciproca tra gli stati. Al momento agli inquirenti non è dato sapere se Michael, al momento dell'arresto, ha reso dichiarazioni o cosa abbia detto non è stato ancora trasmesso nessuna documentazione dalla polizia romena che lo ha bloccato nella tarda mattinata di ieri ad Arad, su un treno diretto in Moldavia dove tentava di far perdere le sue tracce. Tracce disseminate un po' ovunque, anche maldestramente, a partire da quei terribili momenti subito dopo l'accoltellamento nell'appartamento di Via Gavelli dove ancora con le tracce di sangue addosso è montato sulla vecchia Clio di famiglia e guidato per tutta la notte, passando il confine fin nel cuore dell'Europa solo con i soldi della nonna per coprire le spese di viaggio, poi l'auto che cede sotto lo stress e la fuga che continua in treno verso l'est Europa, fuga finita in manette dopo solo 30 ore. In questo quadro accusatorio mancano però alcune certezze. Manca l'arma del delitto, mai trovata, manca un movente vero, il portafogli e il cellulare della vittima spariti dall'appartamento. Ma una certezza c'è. Per lui, molto presto, più che i cancelli d'Europa, si spalancheranno quelli del carcere di Villa Fastigi a Pesaro. Attimi di autentico terrore in Kenya per una comitiva del Fermano. Il loro villaggio è andato a fuoco ma non hanno riportato alcun danno, tanto che oggi hanno preso parte ad un safari. Luca Falcetta ci racconta questa disavventura. Solo tanta preoccupazione, ma nulla più per una comitiva di Porto San Giorgio e Fermo che alloggiava in un resort in Kenya coinvolto in un vasto incendio. I turisti fortunatamente non erano presenti nel momento in cui sono divampate le fiamme, perché impegnati in un safari che terminerà questa sera. Soltanto uno era rimasto in spiaggia a prendere il sole, ma si trovava lontano, in posizione di sicurezza. Il grande incendio si è sviluppato ieri mattina nella spiaggia di Watamu, località balneare che conta in genere una grande presenza di turisti italiani, dove si trovano diversi resort, tra cui il Lillipalm e il Barracuda, che sono stati colpiti dalle fiamme. I fermani alloggiavano presso quest'ultima struttura, ma le loro camere non sono state coinvolte ad eccezione di una. La titolare dell'Agenzia Viaggi Vela Azzura di Porto San Giorgio, Vetti Squadroni, che ha organizzato il loro viaggio, ci conferma che stanno tutti bene e che ci si sta già organizzando per garantire una nuova sistemazione agli ospiti in modo da proseguire in tutta tranquillità la loro vacanza. Il villaggio dove era il mio gruppo del Barracuda, diciamo una parte è andata a fuoco, tra i quali mi pare la reception e l'istorante, l'altra parte delle camere non c'è stato assoluto di problema. e per fortuna non hanno avuto nessun disagio, ma c'è Giù Alpitur che sta cercando di sistemare le persone, anche se i villaggi sono molto pieni, perché questa è un'altra stagione. Devo dire una cosa che è successa proprio ieri sera tardi, mi hanno chiamato delle persone che hanno le case, proprio a Watamu, le ville insomma, e mi hanno detto che se avessi avuto problemi per i miei clienti me li avrebbero ospitati tranquillamente a casa loro, quindi c'è stato un grande aiuto, il territorio si è mosso nella sua totalità, quindi grazie a delle persone. Non ci sarà bisogno, spero, però intanto sappiamo che c'è questa possibilità. Spese pazze in regione, assolto per non aver commesso il fatto il sindaco di Treia, Franco Capponi. Per lui, ha dichiarato ai nostri microfoni, una gogna mediatica durata 16 anni. Sindaco, sono passati tanti anni, tantissimi, 16. Oggi come legge questa sentenza? Beh, è una sentenza che ci dà sollievo, la soluzione in appello è un risultato buonissimo per noi e anche apprezzato da noi. Certamente abbiamo subito per 16 anni un linciaggio mediatico, perché oggi vieni più colpito dalla stampa o dalla disinformazione piuttosto che dalla sentenza. Diciamo, io sono stato l'unico, penso aver già spiato una condanna, perché sono stato per quella condanna in primo grado ho dovuto scontare 24 mesi di sospensione di attività da sindaco con tutto quello che ne consegue e anche della stima dei miei concittadini. Che ringrazio enormemente, perché poi mi hanno rieletto anche in questa situazione. Certamente questo fa pensare alla giustizia, fa pensare al fatto che i tre gradi di giudizio sono giusti da fare ed inoltre diciamo che non può essere portato a un processo a 16 anni perché non ha nessun senso, anche perché una pena applicata dopo 16 anni non so che valore abbia. Torniamo all'argomento di grande attualità e di notevole interesse. Sono arrivati i risultati dell'esperimento fatto in Inghilterra, dove un gruppo di imprese ha approvato la settimana di quattro giorni lavorativi con il medesimo stipendio in cambio della garanzia dello stesso livello di produttività. I dati confermano che è riuscito ed in molti casi la produttività aumentata con vantaggi immaginabili per l'economia con più tempo libero e spinta ai consumi. La CISL in Italia ha subito rilanciato la proposta. Ma cosa ne pensa la gente? Davvero è ipotizzabile una settimana lavorativa dal lunedì al giovedì. Si parla della settimana con quattro giorni lavorativi. In Inghilterra ha funzionato questo esperimento e la CISL la propone anche in Italia. Come le sembra? Buonissima. Assolutamente è una cosa positiva, soprattutto per alcune tipologie di persone. Se questo può aiutare le famiglie, con i bambini specialmente, sarebbe una cosa bella. Potrebbero essere utili per una donna, per una mamma, che poi riesce a gestire la parte della settimana con i propri figli. Sì, dai, non sarebbe male come idea, non sarebbe male. Sarebbe una cosa ottimale, soprattutto per ricreare un po' di amore verso il lavoro da parte di tutti i lavoratori. Le donne o coloro che hanno delle persone fragili a casa è un'opzione quasi obbligatoria. È una cosa che interessa molti, penso, però bisogna vedere se accetteranno o no di fare una proposta del genere. Ci credo poco. In Italia funzionerebbe una settimana lavorativa di quattro giorni? No, credo proprio di no. Noi siamo abituati a un altro regime lavorativo. E quanti giorni lavora a settimana? Cinque. Cinque? Sì. È soddisfatto così? Molto. Sinceramente quattro giorni alla settimana mi sembrano un po' pochi, però... Troppo poco. Abbiamo bisogno di lavorare di più. Ad oggi mi sembra impossibile pensarlo, però chiaramente con un'ottima organizzazione anche della società, di chi ci circonda, delle varie aziende, può essere chiaramente considerabile e plausibile. Se studiata bene come struttura, non la toglie che potrebbe essere anche una proposta interessante per dedicare anche più tempo alle famiglie. Facendo dei turni dove uno può soffrire anche di qualche festa, di qualche festività, di qualche fine settimana da poter stare in famiglia o andare a fare le cose che più desidera, credo che sia una cosa ottimale. Il lavoro non dovrebbe essere a ore, ma dovrebbe essere a obiettivi. Potrebbe essere una soluzione, chiaramente nel momento in cui questi quattro giorni lavorativi sono anche riempiti in maniera corretta. Il segreto è sempre l'organizzazione, punto. Spazio al lavoro, spazio anche al riposo, al tempo libero. Assolutamente sì, tempo libero soprattutto per una coppia, per marito e moglie, per padre e madre, è tempo dedicato per i propri figli. Sarei curioso, sarei curioso di vedere come potrebbe andare. Complimenti alla Gran Bretagna allora? Certo. Non siamo la Gran Bretagna, siamo l'Italia, siamo le Marche, una terra di artigiani e manifattura. Sandro Tiberi è un artista di Fabriano, esperto nella fabbricazione della carta a mano, è anche insegnante di tecnologia della carta, l'Accademia Belle Arti di Roma. Allora, partendo da questo servizio, Tiberi, un artigiano, quanti giorni lavora? È una bella domanda. O quanti giorni non lavora? Ecco, forse è più corretto dire così. In effetti, quando si apre un'attività, purtroppo non si può pensare di avere un orario definito, anzi, spesso e volentieri, la propria vita si modella intorno all'impegno del lavoro. Da una parte, l'artigianato, soprattutto quello artistico, l'imprenditore, ama ciò che fa, altrimenti non lo potrebbe fare. cioè è impossibile fare impresa, essere imprenditore senza amare il proprio mestiere, il proprio lavoro, la propria azienda. Ha maggior ragione quando c'è di mezzo l'arte. In quel caso c'è una parte passionale che ti spinge verso il fare ciò che fai, per cui si vive per questo. E qui vediamo in un video lei, la sua collaborazione. Mia moglie. Mia moglie che è anche il mio braccio destro e sinistro, perché facciamo tutto insieme e la gran parte delle cose sono fatte da lei. E Mastro Cartaglio lei è. Che vuol dire? Allora, Mastro Cartaglio è un termine, maestro cartaglio, questa sarebbe la definizione della regione Marche. È un titolo che viene dato appunto dalla regione. Io ho il Marche Eccellenza Artigiana, 1M, dopodiché mi è stato dato il titolo di maestro artigiano. Questo prevede tutta una serie di caratteristiche e di storia. E poi la bottega a scuola, che è un progetto bellissimo della regione, che fa diventare appunto il maestro artigiano colui che poi può anche insegnare. e la propria bottega diventa appunto una bottega a scuola. Quella della carta è un'arte antichissima, che però lei prova a innovare, modernizzare, declinare a questo periodo tanto digitale, diciamo così. Sì, questo è molto importante. Secondo me è la mia visione, sia del mio mestiere, ma in generale dell'artigianato, e soprattutto dell'artigianato artistico, è quella che abbiamo delle bellissime tradizioni. Pensiamo alla carta che ha origine, nel nostro caso, nella tradizione italiana, intorno al 1200, quindi quasi 800 anni di storia. Però noi dobbiamo essere coscienti che questo mestiere, questo sapere, questa conoscenza, la dobbiamo plasmare attraverso appunto una innovazione ai giorni nostri. La fermo perché a proposito di giorni nostri, adesso andiamo a un evento che sta mobilitando Pesaro, Le Marche e anche altre regioni, poi torno da lei, perché è tutto pronto per il concerto dei Meneskin a Pesaro. Ci dice tutto, Camilla Cataldo. Oggi è il gran giorno del concerto dei Meneskin alla Vitrifrigo Arena. Una serata lunga, attesissima per la prima tappa mondiale del nuovo tour della rock band. I fans li hanno attesi per mesi, anni. Tanti gli appostamenti, la città era in fermento, ma sono arrivati anche da lontano per ammirare i Magnifici Quattro. Da dove vieni? Da Abruzzo, Giulianova. Da quanto tempo aspetti questo concerto? Un anno. Che cos'hanno di speciale i Meneskin? Si avvicinano molto ai ragazzi, soprattutto con i testi delle loro canzoni. Sono molto emotive, quelle canzoni sono molto evocative, toccante, altre sono più rock. Da Abruzzo. Da quanto tempo siete qui a aspettare? Un paio d'ore. Sì, siamo molto emozionate, non vediamo l'ora. Che cos'hanno di speciale i Meneskin? Ci mettono carica. Da dove arrivi? Da Milano. No, siamo il fan club ufficiale dei Meneskin, abbiamo seguito i ragazzi in tutti questi anni, per cui insomma siamo contenti e orgogliosi di questo tour, con tanta gente nuova che li segue e li apprezza. Da dove sei? Sono da Niederlanda. Vieni dall'Olanda. Quale è il tuo canale favorito? Probabilmente, se non per te, dal nuovo album Rush. Da Milano. Perché sei qui? Per stare in prima fila, siamo arrivate col treno, partite alle 9 da Milano, arrivate alle 2 di stamattina, per vederli da vicino. Sono il tuo gruppo preferito, i Meneskin? Sì. Mattina, sera, tutto il giorno durante il lavoro, tant'è che piacciono anche i miei colleghi, perché tanto ormai ascolto solo quelli, quindi... Noi veniamo da Verona e siamo partite stamattina alle 7 e siamo arrivati qua alle 10 e mezzo e siamo venuti in macchina. Siamo cugine. Io sono di Roma. Da quanto lo attendete? Quanto tempo fa hai comprato il biglietto? Ah, il biglietto l'abbiamo preso un anno fa. Negli ultimi due anni i Meneskin hanno letteralmente conquistato il mondo. Il loro nuovo disco, Rush, pubblicato lo scorso 20 gennaio, attualmente ha il primo posto in 15 classifiche diverse e nella top 5 di 20 paesi. Cool Kids, Gossip, Baby Sade, Bla Bla Bla, The Lollist, Zitti e Buoni, Mamma Mia, tantissimi pezzi in scaletta. Il tour continua. Prossima tappa, sabato al Palalpitour di Torino. Poi il gruppo si trasferirà a Bologna per esibirsi il 16 e il 17 marzo alla Unipol Arena. E dopo la grande carica dei Meneskin è arrivato il momento di aprire lo spazio dedicato a voi. Ecco la zona del nostro telegiornale che si avvale dei vostri filmati fatti con il cellulare. Potete inviarci al numero che vedete in sovraimpressione Whatsapp delle belle immagini, delle segnalazioni che poi magari possiamo girare a degli esperti per i quesiti più delicati, più particolari. È comunque uno spazio a vostra disposizione. E quindi, come sempre, apriamo con Io Reporter. Tante le persone che in questo fine settimana hanno visitato la mostra fotografica allestita da Andrea Amici in via San Pietro ad Ancona dove sono state esposte foto riprese anche dalla NASA. Queste immagini ci sono state inviate da un visitatore della mostra. Andrea Amici ha catturato anche la cometa Neandertal, ha fotografata sul Duomo di Ancona, la via Lattea, ha catturato in diversi momenti sul Conero e tanti panorami mozzafiato. E ringraziamo il nostro telespettatore. La seconda rubrica di oggi è Scadenze. Entro il 28 febbraio gli assistenti, i cosiddetti caregiver, potranno presentare una domanda presso i rispettivi comuni per accedere a un contributo anche importante di assistenza ai disabili. Il disabile deve essere riconosciuto da una disabilità gravissima che viene un verbale redatto da una commissione speciale dietro domanda che non corrisponde al verbale classico di invalidità civile o di accompagno. Quindi questa domanda può essere fatta solo da coloro già riconosciuti con disabilità gravissima dalle specifiche commissioni e la domanda deve essere fatta vi ricordo entro il 28 febbraio per accedere a questo contributo che va alla persona che assiste il disabile gravissimo. E c'è spazio anche per una terza rubrica si chiama Marche Librando. Banda Tramezzo Amare d'amore 2022 una raccolta di poesie come mai hai scelto questo titolo? Questo titolo nasce dalla forza dell'amore ho voluto unire un verbo e un sostantivo in maniera indissolubile proprio per rafforzare il sentimento dell'amore perché per me l'amore è una cosa semplice come si suol dire ma nello stesso tempo forte ed è un rapporto che non deve che deve essere osannato perché mi riferisco un po' all'amore platonico del dolce stil novo ma i tempi che chiaramente sono cambiati ecco io sono per l'amore puro per l'amore indissolubile e per l'amore che non deve deviare nell'amore malato quindi amare d'amore e significa proprio amare e rispettarsi l'uno con l'altro ma non solo nei rapporti tra fidanzati marito e moglie anche nel rapporto tra amici sorelle fratelli e quant'altro tant'è che io e la natura anche l'amore verso la natura tant'è che questo libro si compone questa raccolta si compone in due parti dell'amore verso la persona e dell'amore verso la natura proprio perché è il rispetto sia della persona che della natura c'è anche tanta Pesaro in questo libro sì c'è una poesia perché non io mi sento molto adottata dalla città di Pesaro c'è una poesia che riguarda proprio Pesaro come ho dato anche una poesia al mio paese natale che è Venosa beh dopo questo servizio non posso che parlare con Sandro Tiberi Mastro Cartaio di carta pensiamo ai libri pensiamo ai giornali ma la carta ha anche un utilizzo diverso moderno sì diciamo che noi siamo un po' troppo chiusi in questa visione della carta come no ecco libro carta per scrivere come supporto per l'arte in effetti la carta può diventare una borsa può diventare un oggetto di design e questo è anche un suo progetto vero? nella nostra bottega noi stiamo facendo proprio questo cioè stiamo realizzando oggetti di moda oggetti interior design dalle borsa le carte particolari per decorazione muraria lampade tutto personalizzabile la nostra forza è questa cioè non facciamo dei prodotti generici ma solitamente andiamo incontro alle esigenze e ai desiderata dei clienti con i quali parlate decidete insieme è un po' come entrare in un atelier in una sartoria su misura quindi noi creiamo il prodotto adatto all'esigenza del cliente l'oggetto più strano che le è capitato una cappa aspirante per la Faber una cappa aspirante per la cucina di carta siamo andati al fuorisalone di Milano beh mi sembra eccezionale anche come idea e grazie per la notizia grazie a Sandro Tiberi per essere stato con noi grazie a voi Mastro Cartaglio di Fabriano grazie a voi ora c'è il consueto appuntamento con la cronaca della regione riassunta in un minuto da Andrea Verdolini la guardia costiera ha concluso nei giorni scorsi un'ampia attività di controllo sulla filiera della pesca sia lungo il litorale da Gabicemare a San Benedetto sia nell'entroterra 13 le sanzioni amministrative elevate per un valore di oltre 17.600 euro ed 11 sequestri di prodotto ittico di diversa tipologia e specie per un totale di 524 kg i vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina in contrade in brecciata a Montefano per un incidente stradale per causa in fase di accertamento il conducente dell'auto perdeva il controllo del mezzo ed usciva dalla carreggiata finendo in un fosso adiacente immediati soccorsi con il ragazzo alla guida che ha ricevuto le prime cure sul posto prima di essere trasportato all'ospedale di Macerata le sue condizioni comunque non destano preoccupazioni altro intervento dei pompieri ad Ascoli Piceno in via del commercio dove alle 8 un principio di incendio ha interessato un autobus della linea urbana il ruogo è stato prontamente circoscritto ed ha riguardato una ruota posteriore del mezzo i passeggeri e l'autista erano nel frattempo già scesi in tutta sicurezza La parte finale del nostro telegiornale è dedicata allo sport Diamo alcune brevi notizie sempre più grave la situazione della San Benedettese calcio i calciatori rosso-blu hanno diffuso una nota nella quale precisano che non hanno contatti con il presidente Renzi da diverse settimane e dunque non c'è traccia di alcun rimborso rimangono tuttora insoluti scrivono diversi affitti degli appartamenti tanto che siamo prossimi allo sfratto questo è l'ultimo comunicato che faremo se nell'immediato non verranno risolte le problematiche da noi evidenziate la squadra sarà costretta a interrompere le attività sportive in quanto non ci sono più i presupposti per continuare In Serie C la gara Ancona-Cesena è stata posticipata lunedì 20 marzo alle 20.30 siamo davvero agli sgoccioli io vi ricordo di consultare sempre i nostri siti per rimanere in contatto con noi e continuamente aggiornati utvrs.it e come vedete ora nell'home page e tvrs.it e quindi vi ringrazio per l'attenzione vi lascio ai programmi della prima serata di tvrs questa sera tutti all'insegna dello sport vi ricordo che All News torna domani alle 13.15 buona serata sigla e previsioni del tempo Infissi Design l'evoluzione della specie dalle nostre finestre gli alberi si vedono approfitta del Banus Fiscale ben trovati a un aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì partiamo dal livello europeo con la mappa delle alte e basse pressioni possiamo vedere una zona di bassa pressione qui sulla Spagna che inviera ancora infiltrazioni di aria molto umida sull'Italia e disturbare l'anticiclone più a nord possiamo notare invece quei colori bianchi le nevicate fino in pianura tra Germania Polonia paesi baltici e l'aria gelida che da domenica interesserà tutte le nostre regioni con un drastico calo delle temperature la mappa della nuvolosità nubi irregolari sull'Italia ancora infiltrazioni di aria molto umida da sud a sud ovest successiva immagine possiamo notare però le piogge quasi esclusivamente sulla Liguria più sole al sud tra l'altro qui lo scirocco inizierà a soffiare con massime fino a 20 gradi seguite tutti gli approfondimenti scaricando l'app di Trabi Meteo sul nostro sito web